Moglie e marito stanno in casa, il marito sta nel proprio studio a lavorare col computer e la moglie se sta a fa' la doccia. Quindi dopo un po' esce dalla doccia, si mette l'accappatoio e suonano alla porta del loro appartamento. Allora lei dice al marito caro vado io ad aprire non ti preoccupare, va bene cara vai pure tu. Insomma la moglie va ad aprire e nota che è il portiere, che come vede sta signora in accappatoio gli fa Ammazza signor, sta in accappatoio, senta gli faccio una proposta. Che proposta mi deve fare? Allora se lei si apre l'accappatoio e mi fa da' una bella sbirciatina io gli regalo 300 euro. Insomma a moglie allettata, se guarda intorno, vede che il marito non c'è se apre l'accappatoio e sto portiere gli da' una bella sbirciatina e gli regalo ste 300 euro soltanto che dopo gli dice al signor se lei si riapre un'altra volta l'accappatoio e mi fa da' una bella smucinata generale, io gli regalo un'altra 400 euro. Insomma, sta signora se guarda intorno per vedere se c'è il marito, il marito non c'è, quindi se riapre l'accappatoio e sto portiere gli da' una bella smucinata generale e gli da' altri 400 euro. Allora sta signora chiude la porta e rientra in casa. Allora il marito gli dice, cara, chi era la porta? Eh no caro, guarda, era solo il portiere. Ah, senti, ma che tali dati i 700 euro che gli ho prestato?